A cosa ti serve? Che ti serve oggi la corona dei fiori del Presidente della Repubblica? Ti serviva lo spazzanevevo esattamente due anni fa, quello stavi aspettando, quello stavi aspettando. Ci hai telefonato, ci hai detto che sarebbe arrivato, che ti avevano detto che sarebbe arrivato, non ha mai arrivato, non l'hanno mai mandato, maledetti, maledetti, non l'avete mai mandato non lo spazzaneva e salvare mio figlio, mai. Adesso mandano la corona dei fiori, maledetti, maledetti, li maledirò fino all'ultimo giorno della mia vita, mamma non ti preoccupare, cara gliela faremo pagare, cara gliela faremo pagare.